Lui le donne le ascolta Sì, nuova vita, nuova vita che meraviglia Levizia, scendo, se mi dà Riccardo lo porto a fare un giretto E lei capisce? È un amore sua madre, lo sa che adesso mi dà anche più soldi? Ah beh, non avevo dubbi Ma sono tanti, tanti, tanti vestiti firmati, le piace? Tantissimo Bellissimo, no? Ma qualcuna, chi dirà mai di sì? Questa è la pasticca dell'amore, la prendi e sei pronto Dopo il successo di Il pranzo di Ferragosto Ma già, ti posso chiedere una cosa? Io vorrei sapere a te cosa ti dice il cervello 01 Distribution è lieta di presentare Guarda che se vuoi lo puoi fare pure tu, lo puoi fare Un vecchio motore abbandonato per anni arrugginito Ci vuole tempo poi perché possa cominciare a battere, capito? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio Gianni e le donne Da febbraio al cinema